Amici per la pelle, aspettate devo chiedermi un'altra cosa, fermi qua. Un regista, non sai cos'è? No. Hai visto questa cosa qua davanti? L'ho vista. L'ha vista? L'ha vista da tre ore. È da tre ore che l'ha vista. Digli che cos'è. Allora, è tipo una macchina fotografica. Solo che? È in piedi. Facciamo una fotoretta. Dobbiamo sembrare belli che le ragazze ci amano. È schifo. Come che è schifo? Non ti piacciono le ragazze? No. Mandiamo un bacio alle ragazze, dai. Ve l'hai mandato? Sì. Ma fanno schifo le ragazze, scusa. Riprendiamoci il bacio, scusate. Ragazze non ci avrete mai, diteglielo. Non ci avrete mai ragazzi. No, io li lo mando per favore. È la mia pianta davvero preferita. Ah. Perché questa è bellissima normalmente. E con questo, cari amici... Sì, io ho fatto la pennacchia. Hai fatto la pennacchia? Vabbè, hai fatto bene. Vabbè. 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 Vabbè.